Sono tornati l'altra sera nei propri comandi d'appartenenza i vigili del fuoco inviati da vari comandi delle province del Veneto per operare nelle zone martoriate dalle alluvioni di questi giorni in Emilia-Romagna. Le varie unità chiamate in causa in forza ai comandi di Padova, Vicenza, Venezia e Verona sono state assegnate interventi di prosciugamento di sottopassi stradali e in particolare di un'azienda agricola totalmente invasa dall'acqua. Più specificatamente le zone afflitte dall'alluvione in cui hanno operato i vigili del fuoco arrivati dal Veneto sono Reggio Emilia e Parma.